Chi governa bene è il candidato naturale per un secondo mandato, parola del presidente del partito democratico Matteo Orfini che è intervenuto alla festa regionale dell'unità di Ponte Cagnano-Faiano ha commentato la possibile ricandidatura di De Luca alle regionali del 2020, rafforzata ancora di più dalla sentenza di assoluzione nel processo Crescent arrivata nella serata di venerdì. Io penso che quando c'è un'esperienza di governo con un governatore uscente che peraltro sta governando bene è naturale ripartire da lì, è naturale che nella discussione degli organismi dirigenti regionali si parta da lì, poi ovviamente noi siamo un partito che per statuto è federale quindi non può essere il presidente nazionale a decidere il candidato della regione Campania però il buonsenso suggerirebbe di partire da chi ha già vinto e da chi sta governando bene. Io credo che l'obiettivo principale del partito democratico in una fase in cui appunto non abbiamo vinto le elezioni ma le abbiamo perse è quello di riconquistare voti ma anche di impedire che chi ha vinto distrugga il paese.